Come abbiamo visto nella precedente lezione Newton non risponde alle ultime missive di Hooke e poco tempo dopo fa uscire sotto insistenza di Halle i suoi principi. Quando nel 1686 il manoscritto del primo libro dei principi aggiunge alla commissione della Royal Society, Hooke che ne era segretario rivendica la paternità, la paternità dell'idea di attrazione gravitazionale ovviamente, che decresce fra l'altro col quadrato della distanza così come aveva scritto a Newton nelle sue lettere, abbiamo visto nella scorsa lezione, e chiede all'autore, cioè al nostro Isacco, di farne menzione nella prefazione. In pratica Hooke riconosce l'abilità matematica di Newton che non solo dimostra geometricamente la seconda legge di Copleiro ma dà anche ragione del motellitiche, quindi dalla prima legge e poi dalla terza. Tuttavia Hooke vuole che venga riconosciuta la priorità dell'idea di attrazione gravitazionale a lui medesimo per i motivi che dicevamo e che abbiamo analizzato nella prima parte della lezione. Newton in realtà rimane infastidito da questa richiesta di Hooke che gli era stata comunicata peraltro dallo stesso Alley e risponde a Alley non solo ignorando la sottintesa accusa di plagio del collega ma aggiunge che Hooke gli aveva tutt'al più dato l'occasione di scoprire il teorema dell'ellisse e aggiunge che l'unico debito che poteva avere nei suoi confronti era di averlo distolto da ben altri studi su cui era assorto per pensare invece a questo problema e risolverlo ovviamente. Infatti nella stessa missiva scrive Egli riferito a Hooke non sapeva come metterci mano. Adesso non è invece molto elegante? I matematici che scoprono risolvono e fanno tutto il lavoro devono accontentarsi di essere nient'altro che degli aridi calcolatori e uomini di fatica e un altro che non fa niente ma pretende si accaparra tutte le cose e spazza via tutta la scoperta così come quelli che lo dovevano seguire e quelli che lo hanno preceduto. Cioè in pratica Newton sta dicendo che lui è il matematico che scopre risolve fa tutto il lavoro e Hooke infatti non fa nient'altro che pretendere di avere la paternità dell'idea. Comunque su una cosa Newton non mentiva cioè i suoi interessi erano ben altri che i teoremi matematici o le leggi fisiche infatti era assorto negli studi teologici e alchemici aveva un approccio allo studio esegetico soprattutto studiava l'apocalisse era ben poco interessato al resto diciamoci la verità. In una lettera del 1692 scriverà quando scrissi il mio trattato sul nostro sistema cioè punto di principia ebbe un occhio particolare per cui principi che potessero aiutare gli uomini riflessivi a credere in una divinità e nulla può rallegrarmi di più che il mio libro sia considerato utile a tale scopo. Quindi possiamo finalmente sfattare un altro mito cioè colui che ha dittato come l'iniziatore della fisica moderna insieme a Galileo in realtà era e si considerava gli stesso soprattutto un teologo e un alchimista e d'altronde la maggior parte dei suoi iscritti vertevano su quello. Quindi sia Newton che Galileo erano profondamente religiosi l'economista Keynes nel 1936 quando si aggiudicò all'asta i suoi manoscritti rimase profondamente sorpreso da questo fatto perché si aspettava di trovare iscritti di matematica e fisica principalmente invece si rese conto che non era così e per questo ribattezzò Newton non il primo degli scienziati ma l'ultimo dei maghi un nomignolo che ancora oggi gli rimane se volete e che inquadra bene chi fosse davvero Newton al di là dei suoi indubi meriti scientifici una cosa curiosa è che Keynes stesso si appassiona di alchimia dopo l'acquisto dei suddetti manoscritti e ne diventò peraltro un esperto ma torniamo a noi è senz'altro vero che Newton fu spinto all'indagine della questione della gravità sia da Hooke che da Alley ma probabilmente ci fu una cosa questo bisogna a onore di cronaca dirlo che catturò la sua attenzione oltre a questo cioè il famoso passaggio della cometa la famosa cometa di Alley di cui abbiamo già accennato nella prima lezione perché perché gli idea dell'occasione di pensare al suo moto che infatti è ellittico questa volta con un'accentuata eccentricità non per esempio come i pianeti intorno al sole la cui eccentricità è minima si pensi che quello della terra l'eccentricità della terra intorno al sole è circa 0,017 mentre quella della luna intorno al nostro pianeta è 0,055 cioè quindi diciamo l'errore commesso nel considerare il moto della terra intorno al sole è come circolare ma anche della luna intorno alla terra è relativamente basso ma il motivo per cui la cometa di Alley interessò Newton era probabilmente legato al fatto che sarebbe potuta essere la stessa stella di cui la tradizione cristiana parla in riferimento alla nascita di Gesù oggi sappiamo che non è così e sulla stella di Betlemme ci sono interessantissime teorie che magari affronteremo mi piacerebbe affrontare in una lezione prima o poi comunque Newton si smarca da Huck e dall'accusa di plagio in questo modo nella prefazione della prima edizione però cita comunque uno scritto uno scritto a lui precedente ma ne parleremo tra un attimo cerchiamo prima però di capire meglio la questione tecnica perché perché vogliamo sapere cosa scrive Newton nei principi cioè che ragionamenti fa ed è vero che ci sono dei collegamenti col ragionamento di Huck allora innanzitutto il ragionamento esplicitato nei suoi principi è esplicabile con questo disegno è un disegno che Newton stesso fa nel suo libro nel manoscritto e il significato è legato al fatto che applicando il principio di inerzia di Galileo e il concetto di forza centripeta si poteva descrivere il moto della luna come quello di una palla di cannone lanciata in maniera sufficientemente forte in orizzontale quindi come vedete dal punto v partono diversi archi di parabola ma quando il lancio è abbastanza forte diciamo così la palla di cannone o la pietra o il sasso mettete come volete fa proprio il giro fa entra in orbita si direbbe esattamente come la luna ok quindi il senso era quello lì ma per spiegare meglio il concetto di forza centripeta centripeta possiamo partire dalla specialità olimpica del lancio del martello certo è Newton che fa un esempio rispetto al lancio del martello ma lo sotto intende se volete nei suoi nei suoi principi anche perché lui fondamentalmente ragiona a livello geometrico è come tutti i greci e come vedremo fra un attimo qua vedete il campione Giorgio Olivieri che per gentile concessione mi ha lasciato utilizzare la sua immagine anche nel libro quindi si può notare che la corda tiene questa è la visione dall'alto non della situazione si può notare che la corda tiene il martello in moto circolare quando l'atleta lascia andare la presa la palla di ferro parte in orizzontale cioè in direzione tangente alla circonferenza che in quel momento stava descrivendo se non ci fosse l'attrito dell'aria il martello dopo il lancio continuerebbe a viaggiare in moto rettilineo uniforme fino a quando una forza non subentra a fermarlo principio di inerzia prima del lancio invece il moto è circolare non rettilineo se il moto è circolare uniforme la velocità non varia di intensità ma varia in direzione quando c'è una variazione di velocità nel tempo c'è sempre un'accelerazione perché per definizione l'accelerazione è proprio una variazione di velocità nel tempo nel caso di moto circolare quindi anche di moto circolare uniforme anzi soprattutto nel caso di moto circolare uniforme l'accelerazione prende il nome di accelerazione centripeta a cui corrisponde la forza omonima dato che il martello è dotato di massa i pianeti sono dotati di massa eccetera la mela è dotata di massa e così via chi permette l'azione di questa forza è il filo perché perché il filo tiene unita la palla di ferro alle mani del lanciatore quindi è questo l'accelerazione centripeta data dal filo del lanciatore del martello o se preferite dalla corda che tiene il sasso nel famoso lancio di Davide contro Golia nella fionda di Davide contro Golia quindi possiamo fare un ragionamento simile a quello esplicato da Newton infatti se è vero quello che dice Galileo quel principio di inerzia cioè appunto che un corpo rimane in moto rettilineo uniforme se non agiscono forse a cambiare questo moto allora la luna dovrebbe viaggiare in linea retta cioè in moto rettilineo uniforme invece essa curva descrivendo un cerchio esattamente come la rettazione prima del lancio del martello del martello stesso al posto del filo che tiene la palla quindi ci deve essere una specie di filo invisibile che non è nient'altro che la forza di attrazione gravitazionale ecco la famosa azione a distanza no la famosa diciamo forza invisibile pensate che le forze invisibili erano già presenti e già si conoscevano se pensate al magnetismo evidentemente fra l'altro questa è proprio il riferimento che farà qualcun altro ma ne parliamo fra un attimo così come ci vuole una forza più grande per tenere in moto una massa più grande allo stesso modo la forza di gravità è proporzionale alle masse in gioco inoltre la distanza gioca un ruolo fondamentale la luna infatti è attratta dalla terra molto più che dal sole nonostante il sole abbia una massa decisamente maggiore di quella della terra questo è confermato dalla seconda legge di Keplero che ricordiamo afferma che un pianeta quanto più è vicino al sole tanto più va veloce cioè accelera quindi ci deve essere una sorta di forza maggiore quando c'è un'accelerazione maggiore quando si è più vicini alla massa attraverso cui fa ruotare questo è il ragionamento che farà newton sostanzialmente nei suoi principi quindi questo stabilisce che la forza di gravità tra due masse è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le masse stesse in pratica proprio l'idea che hook aveva esplicitato a newton nelle lettere di fine 79 inizio 1680 di cui abbiamo già parlato nella precedente lezione newton è stato poi in grado di elaborare la legge di gravitazione quindi di arrivare a f uguale g o k chiamatela come volete per m per m fratto r al quadrato o d al quadrato e riesce a dimostrare matematicamente o geometricamente se preferite la sua congruenza con le tre leggi di Keplero che invece ricordiamo erano leggi sperimentali cioè basate sostanzialmente sull'osservazione e sui dati a disposizione quello che invece fa qui newton è però capovolgere il problema di hook cioè hook presenta nelle lettere a newton la situazione come abbiamo visto l'altra volta e chiede a newton di dimostrare che evidentemente una trazione proporzionale alla masse inversamente proporzionale al quadrato della distanza dia luogo a un moto ellittico a una traiettoria ellittica e invece newton fa il contrario cioè parte da una traiettoria ellittica e dimostra successivamente che il corpo che la percorre deve essere sottoposto a una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza da uno dei due fuochi è la proposizione 11 del teorema 6 che infatti recita così un corpo ruoti lungo un'ellisse ipotesi si richiede la legge della forza centripeta quando tende al fuoco dell'ellisse cioè in pratica sta ribaltando come dicevo il teorema cioè l'idea di hook quindi newton ragiona sostanzialmente dal punto di vista geometrico potete vedere l'inizio della sua dimostrazione che è molto lunga quindi eviteremo di farla però ragiona come farebbe un greco cioè come potrebbe fare un euclide d'altronde poi tutti i principi sono impostati così non è un caso che newton usi euclide come non è un caso che il principio di inerzia come abbiamo visto che è fondamentale in questo ragionamento era già stato ipotizzato e sistematizzato in periodo ellenistico tanto che era uno dei requisiti cruciali della teoria eleocentrica di oristarco di samo dunque è la formulazione finale dell'equazione diciamo di gravitazione universale e tutta farina del suo sacco manco per niente o meglio gli affinamenti matematici sono finali soprattutto sono senz'altro suoi tuttavia nell'idea nella struttura fondamentale della teoria è sua come peraltro diciamocelo non è neanche di hook che lo aveva preceduto e allora di chi è vi dicevo che newton nella prima edizione accenna a un ringraziamento nella prefazione e cioè accenna a ismael bolio di cui abbiamo parlato l'altra volta che parla appunto di forza di attrazione gravitazionale inversamente proporzionale al quadrato della distanza siamo nel 1645 come dicevamo quando newton aveva tre anni quindi newton in realtà nella prima edizione cita questa fonte cita questa fonte come una fonte cruciale ma questo perché perché nel 1600 c'era già l'idea di forza gravitazionale e quest'idea era un'idea antica quanto antica pensiamo per esempio che copernico parliamo di più di un secolo prima di newton scrive questo la gravità è un'attrazione dei corpi e tende alla loro unione newton non poteva non conoscere l'opera di copernico anche se non lo cita esplicitamente e poi copernico continua se due pietre fossero poste vicine in qualche luogo del mondo fuori dall'azione di altri corpi quindi sta parlando dell'universo quando dice il mondo esse a somiglianza di due magneti si riunirebbero in un luogo intermedio percorrendo intervalli in ragione inversa della loro massa e quindi sta fondamentalmente dicendo che esi e quindi sta fondamentalmente dicendo che la forza gravitazionale è una forza già conosciuta praticamente la struttura della gravitazione già presente in copernico ma come come è possibile allora cioè nel 600 era già presente perché c'era ismael bolliot che fondamentalmente tira fuori la legge di gravitazione universale e ripercorre se la vogliamo dire tutta un'idea di rogero bacone che aveva già parlato di proporzionalità inversa al quadrato della distanza di attrazione di corpi ma se ne parla addirittura copernico come è possibile da dove viene per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto lucio russo che innanzitutto va a recuperare uno scritto di newton e che recita così dunque la terra il sole i pianeti tutti del nostro sistema secondo il pensiero degli antichi sono reciprocamente gravi e per la forza reciproca di gravità cadrebbero l'un l'altro e si congiungerebbero in una sola massa se tale discesa non fosse impedita dai moti circolari signori questo è newton che dice che parla degli antichi a chi antichi si riferisce sicuramente questa è un'attribuzione che poteva essere letta appunto nell'opera di bolliot dove era attribuita a filolao il pitagorico così come l'idea di spiegare con le stesse leggi di moto di un sasso e quello della luna quella che è stata spesso considerata una novità di newton che abbiamo visto non lo era affatto in realtà viene certamente dalla lettura di un dialogo che è citato negli scoli classici di newton più volte peraltro e guardate un po' a chi si riferisce al signor plutarco plutarco per esempio scrive essendovi più mondi in ciascuno è un proprio centro con un moto proprio a ciascuno con alcune cose che si muovono verso tale centro altre che se ne allontanano e altre ancora che gli girano intorno ovviamente di quando si parla di mondi plutarco si riferisce ai corpi celesti e poi c'è un'analogia tra la terra e il sole come infatti il sole attira a sé le parti di cui consiste così anche la terra accoglie come apparentemente come appartenente a sé la pietra naturalmente tendente verso il basso signori qua c'è praticamente già l'idea di accostare la trazione gravitazionale terrestre al moto dei pianeti intorno al sole stiamo parlando di plutarco e in particolare del de face que in orbe lune apparet cioè siamo nel primo secolo tra il primo e il secondo secolo dopo cristo la struttura della forza di attrazione gravitazionale è già presente ne parla plutarco che vi ricordo non era uno scienziato e allora come è possibile vedremo che ne parla anche seneca ma ne parleremo nella prossima lezione